non mi fa piazzare mi serve un altro, dio aspetta, ma vicino certo ci erano tre persone, credo ci siamo vai, buttata ecco, amico, di fatto di fab aspetta casse, metto casse di munizioni poi andiamo in attacco anche se ci sdrumano e gira qua dietro la pianta no, qua è troppo vicino, aspetta mettiamola guarda, guarda proprio avanti spali spalita ci muoviamo dopo lungo il fiume bella novità, eh, squad è un po' come PR spalare spalare, spalare, spalare andiamo gioco che aspettavo metti magari anche un rally da qualche parte dove metto un po' più avanzato americani, sud vicini, 100 metri sì, visti 190C tre tre, tre lungo il bordo della collina li vedo tagliamoli leggiamo? sì, caglio libero credo sì due a terra buona scena ciao baci due a terra, ci sono altri a est che è il grotto ah, sei ferito sì, sì, mi sto facendo fita, AR, granatiere sud-est ti aspetto unico abbiamo anche contatti a est occhio lontani visto a est ti raggiungo per curarti? sì come sei messo? bene abbiamo uno a sud-destra vicino che sono a terra ok, pube arriva c'è uno a sud-destra a 50 metri a posto poi dobbiamo ridiscendere dobbiamo tenere la parte bassa della collina è un calo di frame rate impressionante se guarda a sud-est tutto contatto l'hai tirato a terra lina sembra libera cominciamo a scendere verso giù verso nord verso giù, certo vieni indietro verso ovest veloce sono a terra attenzione da 165 da 165 ma mi è sembrato quasi un timekill non lo so fermo così capri 165 sei a posto andiamo scendiamo grazie andiamo verso il fiume verso nord andiamo andando e hai le munizioni per tirarsi un po' di no, no, non puttiamo assets per ora teniamo la sgamata posso andare a riformirmi? faccio l'occhio a destra ok ok dovresti averlo a destra davanti a te giù, 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 giù anche più sì, nord-est 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 eddy riesce a fare qualcosa? nord-est lontani su di copcolina ci sei l'arri è andato è morto ce n'è un'altra smocco intanto a posto vi raggiungo ciao a tutti c'è un luogo a sud in cima copy e dobbiamo scendere verso il fiume più dentro il fiume verso la boscaglia io mollo qua e vengo giù allora eddy tu sei libero cioè stammi abbastanza schiscio mi devi solo fornire fuoco di copertura c'è ancora uno in cima alla collina ma fa il vostro ovest copy allora qua da me siamo in cattura venite qui su di me sdraiati dentro i cespugli e capiamo sparate solo se vi sgamano e c'è tirami su posizione io sono vicino a dara cosa? cosa? il tasto per zoom è una mappa eeeh parla in locale che ti prova a raggiungere eeeh 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 stai arrivando n di napoli tale quale pr però è un fottio di zoom cioè hai tipo di 5 livelli 6 livelli di zoom sulla mappa eeeh 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 qua ancora di più se tu stai dentro le frasche non ti vedono se tu stai proprio dentro il cespuglio no eeeh lo sei tu sei quello eri quello su in cima alla collina esattamente a ovest vicino che dal nostro management soulless non non riesco c'è un'intera squadra nemica a sud della mia posizione in cima alla collina da dove siamo appena venuti c'è una squadra intera di americani stiamo cappando esattamente a sud della fob si stiamo cappando si stiamo cappando tour squad we are capping the flag fiii sei givappato si 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 ma io questa voce la conosco stai decappando sono sono lexmitch che ha cambiato la voce esatto ecco 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 stai andando con delle donne nude attorno di chat benson col bastone infernale per stare all'interno dovrebbe lasciarti il nome amici ne saranno 10.000 di argon 89 no no eh li abbiamo su dovest su dovest su dovest raga su dovest sulla collina su dovest vedo cosa ho visto ho visto posso ingaggiare? no 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 non ci ho visto dobbiamo solo cappare no va bene state leggermente larghi dentro le frasche che vi assicuro non vi vedono dentro la ferla aprite il fuoco se quello vi guarda troppo è andato via è andato via verso sud è sfilato stiamo ricominciando a cappare no no se ne era ne uno è che ha c i sono il Io sto coprendo ovest. Tengo est su destino. Guarda la textura, tutto è piatta. Sì, lo stesso. in realtà non è il mozzino è push sporco siriano eh sto non ricappando porca troia dalla mappa vedo contatti più che altro a est sulla squadra 3 charlie 6k pad 2 speriamo di no filzi vai con bacio vai a farmi una scoutata a est bellissima hanno spottato un contatto vicino alla nostra fire a quella in delta tra noi e la fire copi cinque arrelli dato via c'è un arrelli di unico dato via e finca tutto pulito comunque eh proviamo a farci stare verso di voi spingiamoci un attimo verso est senza correre ci sono delle case lì se non sbaglio c'è un bel campo in occhio all'occhio non ci sono la forma del tuo culo ce li aspettiamo a est sulla strada che vediamo in charlie 6k pad 2 vedo i pallini rossi sono lì ecco guarda che bella infrattata questa bella balletta infrattata teniamo questa è tutta la sua scuola водa 10m capi ovviamente contico nord e nord est te lo scordi capiamo tutti sdraiati La barra è scontata, ma non si fanno bene difendere per sbaglio sopra. Contiamo che non sono riusciti a passare. La 1 che sta prendendo. Rally giù. Non abbiamo fanteria nemica intorno, ho buttato il rally. Per me ci sbiancano prima quella di difesa. Scorbaccio. Squadra 2, mi siete messi? Kappate? Stiamo kappando abbastanza velocemente. Stiamo kappando molto velocemente, se volete lanciarvi catturate. Ok, allora ne restiamo nella bandiera. Così come kappate, kappiamo noi. Ho ricevuto. Lel Visto. Ciao Poldo. Ciao. Ma hai detto gufo di un filz. Tutto calcolato qua. Tutto calcolato. Allora dopo ci... Teniamo un attimo e... Vediamo se la 1... La 1 dovrebbe spingere verso l'altra flag. Se non ce la fanno ci muoviamo verso il fiume. Cioè, ci credi che PK è della squadra 1 e da qua l'ho ucciso tirando oltre la montagna con lancia granatiera? Sì. 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 Rifallo. Sì. 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 Sì.